Qua sopra Fatto uno Fatto Manca uno mi sa Ecco troppo Le un bot Le un bot Bot Ah si risultati ok 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 Facciamo sta missioncina va Dobbiamo eliminare il bot Le fanno male Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Un bot Ficchiamoci tutto Che bella sta tappa però Bella Bella questa Cazzo Pianto io Dio Cristo Mi serve una mano qua sotto Ok Ok Rocchi Tieni Un po' di carica Tieni maestro Vieni Ok 9 5 5 Cos'è? Metti qua Vediamo che trovo Questo cosa Prodotte dai Ieri Il pisellone qui Lo vedete il codice Lo vedete il codice Dove? Davanti a voi guarda Ah ma forse bisogna Con un termico Può essere Allora Powerbank Anche il powerbank Se deve fare una Ma cos'è? Un'equazione E' un'equazione E' un'equazione E' un'equazione Cos'è? Forte E' caricata la scopetta Ma non te lo togli a questo Tieni che ti droppa un po' di cura Che non mi servono Vedi tutti sti segni No l'ha tolto Prenditi questa cura Ah Allora Ok Oh ci siamo raga E' buona questa partita Questa è andata Quindi qua abbiamo aperto questa chiave Per trovare un'altra chiave Per trovare un'altra chiave E forse sono giusta davvero le frecce Campo Mirato Eh sicuramente è lì Sicuramente è lì Aspetta Oh cazzo Raga Non muovete Ah ho fatto Ho fatto il giro Qua ci sono le mine vi sa Ho fatto il giro Eh ma se ci sono le mine Ehm Oddio Caminiamo sulle Oddio Aspetta Aspetta Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Porca troia Ho diventato muovato sulle rocce Non penso che ci sono le mine Infatti l'ha promesso sulle rocce Si può essere Ma si vedono le mine? No Cazzo Cazzo Emo Ehm Ragà dobbiamo farlo Solo uno lo dovete fare Se no Ma io L'ho fatto Ecco Aspetta Torni indietro Puoi correre come le persone In grazia di dio Non ce n'erano lì C'è un problema raga Lanciami Non posso Ma sono a testa in giù Ehm Salta Fai qualcosa Schiacci tutti i tasti No Ok ce l'ho fatto Bravissimo A posto A me grazie a rocco un po' Ti ha aiutato Mi ha spinto La spinta rocco Ma vedi sopra qua Dov'è? Vedi sopra ci sono sti cosi E mo? Sono quattro numeri Quindi Quindi saranno Uno Due Tre Quattro Quindi Sarà Questo qui sarà un Eh ma come lo fai a capire? Oh guarda Cambiano No Però quando si sfoccano Ehm Ah si Se sali un po' Guarda qui Se sali un po' Diventono colorati Uno Allora l'ultimo è tipo Un 6 o un 8 Dici Eh guarda com'è Il terzo o il secondo Penso sia un 5 E il primo Forse un 1 Forse Eh poi ci serve Varrocco Vai provare una roba Ascolta Prova così? Sarà brutto Ah e trattino punto Allora Ripartiamo da quello che abbiamo Ah Punto Linea Punto Linea Ok poi Che significa Uno Poi B Eh come si scrive? B Eh Linea Punto 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 Ho scritto qualcosa C'è scritto 010498 Sopra il testierino Dove? 010498 Guarda Dove è scritto zio? Guarda Metti lo zoom Sto scherzando Con l'arma? 010498 E che c'è stato? 010498 Aspetta Ma sono tressi i numeri Gellaio 1998 Oltre che non ce la facciamo con il tempo a tornare e andare via Nooo Nooo Ah